La signora Ticoen Tim, ma voi chi siete? Mi pare di avervi già visto Sì, sono il segretario particolare del ministro Posso permettermi di chiedervi che cosa fate qui nel mio studio? Sì, aspetta appunto il ministro Mi ha detto di entrare qui un minuto e non l'ho più visto Anzi, andate a vedere che cosa fa Sì, sì, vado subito Non c'è... Il ministro non c'è Che dove è andato? E chi lo sa? Sì Poco fa ho avuto un piccolo svenimento Mi capita spesso Il vestito mi stringeva e allora ho dovuto slacciarlo Anzi, deve essere rimasto di là Andate a vedere per favore Sì, vado, vado subito Lo trovate? No, non ancora Guardate, deve essere per terra Non si vede? Oh Che c'è? Ah...